Il mercato immobiliare va come va la città, i prezzi delle case sono in discesa e la crisi è netta. Il vero problema è che in tanti sono andati via dall'Aquila a causa, dicono gli agenti immobiliari, dell'ordinanza comunale per la sostituzione immobiliare che consente di fatto agli aquilani di comprare una nuova casa su tutto il territorio nazionale. Un fatto gravissimo, ma la norma è ancora in vigore. Una restrizione contenuta nel famoso decreto legge della Pezzopane, ma al momento negli uffici comunali non ne sanno nulla. I soldi, dicono gli agenti, devono rimanere qui per farginare l'economia aquilana. Uno svuotamento della città implica delle conseguenze che si riflettono sia sul mercato sia sugli altri aspetti della vita cittadina. Quindi ci auguriamo che in questo caso il Comune faccia di tutto e faccia applicare qualche norma per far rimanere gli aquilani in città. Gli studenti oggi all'Aquila sono molto meno e con i lavori di riparazione si trovano più immobili sul mercato e anche questo è un problema. Il problema, come in tutto il territorio nazionale, è quello dell'accesso al credito, quindi delle risorse finanziarie per l'acquisto dell'immobile, che è sempre difficoltoso. I prezzi sono scesi? I prezzi stanno registrando una tendenza a ribasso, così come anche in questo caso in tutto il territorio nazionale. Forse all'Aquila è anche leggermente più accentuato in quanto l'offerta in questo momento supera di molto la domanda. I prezzi degli affitti, pur registrando ancora casi eclatanti, sono leggermente scesi. Si va dai 300 euro ai 450 euro per i mini appartamenti, con due camere si parte da 450 per arrivare a 600, con tre camere si parte da un affitto di 500 euro. C'è anche una leggera richiesta per i palazzi ristrutturati in centro, ma la questione è ancora embrionale, non essendo realizzati i sottoservizi. Le zone più richieste sono quelle del circondario Aquilano, via Strenella, Torretta e Torrione, poche per i paesi, ma un problema grande, segnalano gli agenti, è quello della richiesta dell'Aua. Se si deve aprire infatti un negozio o un ufficio e ci si reca alla Gran Sasso Acqua per il contatore, viene richiesta questa pratica, costosa, ma soprattutto con una trafila burocratica che spesso scoraggia le iniziative.